Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Siamo tornati dopo lo scorso video E adesso siamo su un gioco che non avete mai visto sul mio canale Però tutti conosceranno Quindi siamo su Fortnite Allora, metto subito le mani avanti Non sono fortissimo Però oggi sono in buona compagnia di Ottiflip Ciao a tutti E proveremo a vincere Anche se io non gioco praticamente mai Cioè, sì, non è che sono fortissimo Però adesso proveremo a vincere Ok ragazzi, allora siamo in partita E decidiamo di andare a colonne Colonne Cineast No, aspetta Ah, no, non era mio ping Ok, vabbè In effetti Allora io ho fatto pochissime partite Con il mio fratello E devo dire Questo qui secondo me Com'è leggermente schifo Però vabbè Comunque chiaramente Ditemi se ti piace fortemente E Se volete altri video qui Ah, e vi dico che Subito I livelli Questo qui è l'account Cioè, in teoria sarebbe il mio account Però ci gioca sempre mio fratello Quindi Cioè, io veramente sarò Forse Penso la prima partita in singolo Che fa Un punto è un punto è un punto un puntero Allora, attenzione Asta mitragietta qua è buona Dico subito E' buona O comunque Devo dire Ottimo Io sono un punto verde E' una mitragietta Che non è terminato mai verde Sapete che non riferrò la ricetta Io nonаем un salto Sì, io appunto che non riesco a trovare una gesta Eccola Ma che so Non ho vinti più Eh, infatti, adesso l'ho visti Aspetta, faccio i cilini Comunque, un po' so come si gioca Perché, cioè, io già ci giocavo Prima nel video Ok, vi tolgo, mi sa che ti sparano Ah, no, sai dove spavano Cazzo, mi sto qui Ah, sì, sì, questo qua vuole scendere Ah, no, no, aspetta, qua c'è uno, eh Dove sta? Ma questo qui fa fortissimo Eh, no, che suono, no, ok, ho fatto uno Vabbè, non c'era niente Lo scioce, lo scioce Ma questo qua nemmeno aveva vita No, ma, è notato, non ho avuto inizio al treno Ma questo qua nemmeno aveva vita Io ho fatto 44 e sono subito morto Però non aveva meno armi Ma era il primo minuto, va, fortissimo Gli tre sta avventavissimo Non so perché ce l'ho più bene qui C'è l'insieme se ce l'ho più bene vicino Ma non entra lontano, però è un po' sì Ah, sì, sì, lo vedo Ah, mi sa che c'entro vivo Ok, aspetta, magari arrivo Vabbè, adesso non vedo nessuno Noi, c'è solamente bomba in dritta, però ci stanno Questa roba Ah, quello che distruggi lo studio Ok, due messe la taglia, ok Ok, qui ci spazio un attimo Alla taglia è nella zona, ho trovato questo, non so se lo vuoi Questa è un'altra giancella Ah, no, non so se si, la taglia è la zona Già La testa No, c'è Ok, allora Questa qui, ha questa cosa, vuoi per te Questa qui, non so se si, la taglia è la zona C'è tanta scelta, ne so pure Ah, se vuoi portateli tu, scelta Ah, se vuoi portateli tu, scelta C'è 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 Allora Va beh beh, qua penso che praticamente tutto, non lo so, perché la ve lo dico prima Ma scherzi in tempo Scusi Scusi Io e mio fratello però durante la partita E non mi sembrava però un punto perfetto dove atterrare Comunque Io la migraietta verde ce l'ho Bella pompa ce l'ho, quindi Mi sono abbastanza soddisfatto Qua ci sta quest'altra cosa, se vuoi Però è bianca Scusi Scusi lo faccio io questo ci vuol dire ci vuol dire un tipo questo non posso scrivere il domenico milino quello non fai il mio porto facciamo la persona taglia cini non ci sta qualcosa con ecco la città sì per l'accio questo non la taglia la difesa del duello spara forse sul tasso comunque sparavano si non questo questo qui è questo è questo ma quanti sono anche un altro sono che hai fatto tutto scusa c'è il compagno ucciso metà tomentato il suo io forse ecco non lo scuso a giocare ho fatto doppio bravo ho ricordato l'assalto per la prima volta ho fatto un accio con l'assalto ovviamente per me è stato una schifo che sta in questo posto si ma sono stati attivuti ma che c'è le bacche a tutti lì ma che di queste quali stese dal nome eh sì sembra tipo l'anderetali però con più con le case eh sì sono città no no sì sì così si 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 allora io mi porto quest'altro medikit a per il momento 6 kill non è male che qua non c'è niente che parecchia kill tu ne ho trattato 4 io ho due però tra la turret la torre un attimo la bacca ok dove sta la torre eh non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è sì sì di alcuni che abbiamo fatto venivano da qua è questa torrampino di questo senso non c'è non c'è non c'è è lo stesso vabbè eh 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 si però se vuoi ti ho lasciato questa ah no perchè tu c'è il blu eh ah parla non c'è sono abbastanza qui che stanno ma aspetta questa qui non è lì non hai premato se non hai fatto la prima penso che stanno dietro questa casa hai giù sì sì ok penso che stanno con due aspetta sotto due scuola sento passi cioè sento passi io gioco ok ma sta uscendo il boss ah no vito sta sulle scale ecco ho fatto fatto è bene mi sia aperto pure la mappa mi sento un po' a ricaricare c'è un po' a ricaricare un po' a ricaricare aspetta che mi sto scorgeremo per fare c'è un po' a ricaricare c'è uno che nuotava perché io c'è il senso rigolo le cose si muove in un po' a ricaricare che torsarò sto qua ok la foto ha subito è morto ah no no sta fatto ecco 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 ecc c'è anche un treno non è da staglia un centino ma qui davanti asili 1 42 che abbiamo arriva con è sotto sotto vito evitava vediamo se posso finalmente ricaricare cioè questo punto qua che io ci metto un botte ricaricare un po' la sfamore di questo po' blu anche se l'ultimo spazio morto si si è un po' ricaricato no allora io sto scarpevo dire che sto prendendo un po' di confidenza con questo salto verde il tuo aiutato che vi faccio non lo so poi dico che sta miglietta qua abbiamo preso una cosa e non solo come si può averlo preso bacche tutta la partita posto c'è il bosco ci dovrebbe essere ma qui c'è il bosco ah il bosco c'è ancora ma qui c'è il bosco ok come si fa a prendere questa l'area della tua posizione è rivelata ah grazie perfetto ma a chi sei il bosco aspetta aspetta io so dove sta il bunker adesso ok che vengono il bunker però ti dico sotto non c'è niente ah questa qua sotto ok si entra qua adesso ok aspetta qui ecco qui credo dove ecco qui 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 scusa vittorio c'è uno sa vabbè noi lo togliamo ok eccomi eccomi dove sta da la porta io ho i sensori ok io ho i sensori ok ci sono due buonissimo questo 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 forse è una bomba più buoni ho trovato aspetta che sei un po' uguale c'è gente attento sì e poi non siamo sei un'ottima ma voglio entrare da qua questo questo è un aspetto non so se funziona anche su che si può distruggere ok ecco comunque li siamo andati con la macchina a fare la taglia eccolo eccolo ma non è stato fortissimo la mia mitica boss non è che sta roba ok si che io sono ecco metto dietro il calendario scuola per aspettare io questo qua picciclose ok che mi lancia vincere non c'è non c'è ma non sa più qua ok questo solo è avviso non scuola non scuola non scuola non scuola è attento che pure bravo e poi non lo vedo sta qui del sogno questo scappa eccolo si sta venendo un altro aspetta si sta curando sta curando c'è uno con sciacchino non sta stavano venendo in bandezza sta qui sotto c'è anche una 6 tu dove cazzo stai ho fatto uno stavano porco tu sei morto aspetta dove stai dove stai dove stai dove stai dove stai sto facendo la scelta aspetta lo vedo lo vedo c'è andata tu? si aspetta aspetta dietro ok a me l'ho aumentato brazo ma pure no è tutto è tutto è tutto è tutto è tutto ecco due eh sono due eh sì è la safe corri oddio ho ucciso uno a caso no oddio uno ha maestriato con un cerchino ci provano a spararito in effetti qua l'ho vista abbastanza dura oggi ma tu non evita l'ho fatto a me c'ho mai detto che stai capito per me non aspettano più ok che non siamo tessere il primo vabbè comunque siamo in spazio diciamo sei così piccoli ecco me lo farei troppo no ma che ne ho salvagio e non te lo finisce tutto se ti muovi troppo come stava la fine non lo vanno ma quella il 3 2 boh però sta qua non era male chi sai spazio sono un litro non è stato un processo non c'è oltre a un po' a me ci vediamo si vede il titolo in questo sito rispetto alla season il primo un po stimo per un ruolo per un po palo mi vedi dove stiamo questo è stato qui non ci sono le tante sono le tue 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 Aspetta, metto dietro di te così. Occhio, Aaron, siamo inseriti. Guarda, ma come cazzo fanno? Cattarrota. Ha tirato miscola o cosa? Corco tu! Eh, lo sapevo che mi prendeva! Lo sapevo, corco trotta! Io sono in cura, no, non ho in cura. Eh, non si è un po' fottuto, no? Mi ha fatto 2740. Attento, attento, attento. Non ci spavano, interco tu! Mi sono in cura di questa, e poi non ci spavano i nostri, ma non ci spavano i nostri. Mettere di questo, ma non ci spavano i nostri. Questa è una cosa. Ho fatto, no, ma non ci spavano i nostri. Occhio, ho fatto il giorno. E poi non ci spavano i nostri. È andata abbastanza bene Perché comunque poteva andare peggio Abbiamo fatto anche abbastanza kill Anch'io Abbiamo fatto comunque qualcosa Abbiamo stati sti che partita No come Ah sì 5 eliminazioni 5 kill 1 assist Poi gli assist Non so in cosa In base 1 assist Pianto di team 1 plano di civile Ok Quindi Penete Affillato Eh sì Va bene Allora possiamo Chiudere qua Penso Giusto? Sì sì Ok possiamo chiudere qua Diremi se vi piacciono Questi tipi di video Su Fortnite Ne possiamo fare Chiaramente altri E mi raccomando Iscrivetevi al canale Mandate Condividete anche il video E mi raccomando Mettete like Ciao ragazzi